Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video su Runeterra, oggi andiamo a fare un video un po' diverso dal solito, ovvero sarà sempre un video di guide e gameplay ad un mazzo, ma questo mazzo è molto particolare, è un mazzo che non è assolutamente un top tier, ma è uno dei mazzi che ha la combo più bella in assoluto di questo gioco. Quindi cercherò di far vedere questa combo, comunque siamo modificati il mazzo per far sì che sia abbastanza competitivo anche da giocare, questo mazzo l'ho visto per la prima volta giocando contro Soul e si chiama Immortal Barrel, andiamo a vedere la lista e vi spiego come funziona la combo. Ecco qui la lista, Beachwater Demacia, si parte con una lista abbastanza midrange, abbiamo troppa 1, troppa 2, troppa 3, cerchiamo di mantenere fino al turno 5 una buona curva di mana, abbiamo più di una carta che mette i barili sotto ufficiale, abbiamo anche mono più polvere che può essere utile soprattutto a combo iniziata, abbiamo il mozzo ovviamente, abbiamo Gangplank che insieme a Twisted Fate sono i due campioni che andiamo a giocare e dopodiché abbiamo 3 carte a 8, 3 carte a 8 che sono un po' il fulcro di questa nostra combo e sono il Rex Frantumante che può essere giocato non per forza in combo ma anche volendo per risolvere la partita in mid-late game e lo Spirito Incrollabile. Qual è lo scopo di questo mazzo? È riuscire a fare Spirito Incrollabile su un barile, una volta che abbiamo fatto Spirito Incrollabile su un barile, quel barile anche quando attiva l'effetto non muore più, rimane sempre lì e la cosa forte è che ogni volta che noi giochiamo una carta che mette barili, i barili si vanno a sommare rimanendo tutti immortali, quindi andremo a avere 2, 3, 4, 5 cariche di barile e il barile rimane immortale ogni volta che si attiva l'effetto fa i danni potenziati. L'alternativa comunque sia è vincere anche nel mid-game, non ci ostiniamo per forza a giocarla sulla combo, però devo dire che quando si vince di combo è una soddisfazione incredibile. Andiamo a giocarlo. Siamo contro Swain, Twisted Fate, Bilgewater Noxus, potrebbe essere un mazzo abbastanza aggressivo, quindi dobbiamo stare attenti ai primi turni. Abbiamo una buona curva, GP potremmo anche volendo tenerlo, però in realtà io preferisco cercare un drop a 3 per chiudere al meglio questo inizio di game. Beh, arriva un altro GP invece, ha deciso che deve stare in mano, per carità, per carità. Lui è buono, lui è buono, preferiamo al mozzo, e il mozzo se non siamo costretti a giocarlo nelle prime battute possiamo anche tenerlo proprio per la combo, anche perché magari il barile potrebbe non essere utile inizialmente, visto che comunque sia non abbiamo tantissime carte che attiene i barili. Abbiamo 3 Twisted Fate, 3 Gangplank una volta evoluti, 3 Piagge di Piombo e il Rex Trattumatore, oltre ovviamente ai colpi d'avvertimento che ci dà Yordle. Va bene, mano della morte, ci uccide il pezzo, fa più 3 su Swain, e noi attiviamo il primo tick di GP. Abbiamo TF, però TF io lo terrei per situazioni in cui abbiamo i barili in campo, perché fare la carta rossa con barili in campo è veramente molto forte, qui il tono d'attacco invece secondo me il Grizzly è decisamente superiore. Allora, per quanto riguarda il grab dei barili, a meno che non siate convinti che grabbando quel barile glielo fate perdere perché lui non può giocare spell, evitai di grabbarli, perché poi possono anche essere utili per salvare dei pezzi. Ad esempio, se adesso il nostro avversario mette un 3-3 e noi non vogliamo far morire il primo cuoco dei due, e magari diamo il più 1 più 1 al secondo, possiamo grabbare con il cuoco 2-3 e il barile, il 3-3 a quel punto non ha più il trade sul 3-4. Era TF, carta rossa per TF, va bene, vabbè, noi senza paura. Senza paura facciamo così, vediamo se lui sacrifica Twisted Fate, Swain sta già 11 su 12, ovviamente Twisted Fate l'ha aiutato a ricchio. Ha piani più importanti, a quanto pare, ha piani più importanti. Ok, ci attacca subito, noi penso che potremmo anche lasciarceli passare due anni, eh. Bloccare con lui è un po' rischioso, immagino che lui abbia qualche carta che ci mette in difficoltà, non avrebbe mai attaccato altrimenti, quindi lasciamo il trade. A questo punto la preoccupazione è che ci possa fare un danno a tutti, quindi giocare Segugio e Ranger potrebbe essere un po' troppo rischiosa come idea. Gioriamo intanto Ranger, vediamo cosa succede, facciamo sempre in tempo a darglielo dopo il Challenger, volendo. Attenzione, ci ruba due carte, potrebbe farlo lui il Barile Immortale. Ce ne va a rubare un'altra? Ce ne va a rubare un'altra. Attacchiamo subito con il 4-1, vediamo che succede. Allora, questa pioggia dove va a finire? Ok, sul 2-1, sul 4-3 e in faccia. Potremmo essere tentati a questo punto di giocare GP, eh. Ok. Va bene, lui è abbastanza leggero in bordo. Col 3-3 deve scegliere di parare uno di questi due. 4-4 potrebbe andare a fare il value trade qua. Ok. Non ho capito perché ha preferito parare GP rispetto a qui, deve avere un modo per farci dei danni, altrimenti non penso che sarebbe andato a prendersi adatto due danni in più e non uccidere il tassorzo. Un danno a tutti. Con TF possiamo uccidere DF volendo, gli facciamo pescare le carte. Almeno l'idea è quella. Ok, lui ha 3 punti di vita. Io a questo punto non perdere tempo, potremmo anche fare, scegliere una carta, eh. Però secondo me è troppo importante cercare di vincere al prossimo torno. Ok. Tra l'altro interazione incredibile. Prende lo sfidante anche se è stata giocata di fatto per seconda. E la nostra versione si arrende. La nostra versione si arrende è bastato aggredire di midrange. Ok, siamo contro Demacia. Demacia e basta. Io voglio fare questa combo, quindi terrò spirito introllabile, anche se è una cosa che non si dovrebbe fare. Ma sto continuando a vincere le partite senza fare la combo e questa cosa mi dà fastidio. Abbiamo anche Rex, però io passo. Voglio avere questi 3 mana. Va bene, qua metto un drop a 1. Ok. Ok. Non è un dramma. Attacca anche con lui. Bocchiamo il 4-3, vediamo se ha qualcosa per salvarlo. Probabilmente sì. Infatti. Va bene, va bene, ci sta. Ok. Diamo spazio al Ranger qua. Ranger anche di là. Va bene. Ammere di nuovo. Va bene. Ok. Qua dobbiamo reggere ovviamente. Lui come giocate tempo sicuramente ci sta sopra. Quindi dovrebbe andare a fare lo stun. Carta gialla. Carta gialla mi piace. Lo esso se vuole può attaccare con quei due. Noi possiamo parare il 4-2 con il 2-1. Attacca solo con questo. E mi hanno pariato. Noi siamo qua per fare la storia. Quindi Yordle. Ok. Non si attiva niente purtroppo. Facciamo così. Non credo che lui abbia niente per traddare. Infatti noi passiamo il turno. Passiamo il turno e ci prepariamo al gran momento finale. 3-2-2-L. Non so perché. Meglio 3-3 no? E beh. Meglio 3-3. Meglio 3-3. Noi facciamo così. Immortale. E ci siamo. Siamo tutti a un punto vita di là. Ma io intanto andare a fare così. Fanno un gagne a tutti. Anche se fa taff comunque sia se li prende. Dire che ha scelto i peggiori è un eufemismo. Però vedete che continua a fare le esplosioni ma rimane qua il nostro barilotto. Fiero il barilotto. Indistruttibile. Questa combo è fortissima. Ci servirebbe un altro tic del barile. Va bene. Lui ha fatto un'aviazione bellica spaventosa. Però insomma un po' di tempo noi ce l'abbiamo. Possiamo iniziare facendo così. Lui vediamo che gioca. Noi possiamo fare due danni a tutti. Non gioca niente lui. Potremmo quasi passare noi eh. Undici mana buttati. Sì. Passiamo. Passiamo passiamo. Gli facciamo sprecare tutto col mana. Facciamo così. Singolar tensione. Lo facciamo anche noi. Ma io su Fiora non si dà mai se anche lui ha modo di renderla immortale. Fiora è il modo migliore che abbiamo per perdere. Ok. D'accordo. Facciamo saltare per aria tutto. I barili esplodono a rivedizione ma non esplodono. Sono fatti di un materiale incredibile questi barili. Voi non avete idea. Noi ci dobbiamo fare due conti perché comunque sia adesso se giochiamo lo Yordle andremmo ad avere due, quattro danni automatici. Quattro danni sono automatici. Se un tick va qui ne vanno sei qua, quindi sono altri dodici. In teoria sono sedici danni dopo. In teoria abbiamo appena vinto. Se non mette niente. E invece mette la carta. Questo ci mette ancora un pelo fuori dall'Ital. Ne farebbe tre qua, tre qua. E poi sono cinque per due dieci. Sono dieci danni, con questi andrebbe a quattordici. Però è anche vero che dopo lui ha soltanto una carta da poter giocare. Noi attacchiamo con tre pezzi. Quindi in realtà secondo me ci può stare fare così. Ci può stare fare così. Adesso guardate quante volte esplodono questi barili. Anzi, purtroppo questo barile. Perché non stiamo trovando altri barili. Se vuole provare a fare qualcosa di strano. No, ok. Non tenta di salvare in nessun modo nessuno. Un barrier semplicemente gli salverebbe due danni dal Nexus. Che in realtà sono abbastanza importanti. Barili che esplodono in continuazione. Già se ne avessimo avuti due sarebbe stato OTK. Forse anche al turno prima. E adesso come li pari tre pezzi che ti vogliono fare male? Basta ne entra uno. Tu lo sai che ho questo in mano. È rimasto sconvolto dal nostro mazzo incredibile. Giusto, giusto. Giusto rimanere sconvolti da questo mazzo. Incredibile. E niente, va la corda. Sta andando a chiamare gli amici e a chiedere a dirgli Guardate cosa mi ha fatto il mio avversario. Infatti, concede. Concede alla fine. Non può fare nulla. Vittoria incredibile. Bene ragazzi, abbiamo messo 4-5 game. Ve ne farò vedere solo un paio di tutti quelli in cui ho provato a vincere. Ma vincevo, ne ho anche persa una, ma l'ho quasi vinte tutte senza riuscire a farla in tempo. Perché li ammazzavo prima. Fortissima demasi a tempo. Anche in un mazzo in cui si vuole fare una combo diversa. Comunque sia ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito un sacco a giocarlo. Questo mazzo, devo dire, è veramente molto divertente. Non estremamente competitivo. Ma un buon modo per sorprendere anche i vostri amici volendo. Io vi rimando come se in descrizione, al codice della lista. A tutti quanti i miei link social. Vi ricordo che andiamo live tutti i giorni alle 16.30, alle 20.30. Oggi tra l'altro abbiamo fatto top 50. Master, quindi GG a tutti quelli che c'erano a fare il tifo. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Buon gioco a tutti.